Prove generali delle Olimpiadi, Benedetta Pilato risponde presente, meglio di così era difficile, nei cento rana al sette colli però va in scena lo show delle tre meraviglie azzurre, Castiglioni, Pilato e Carraro. Vince Arianna Castiglioni ma la gara di Benedetta è stata coerente, seconda al passaggio dei 50 metri dove ha girato con 34 secondi e 66 centesimi, seconda alla fine con un minuto 5 secondi e 84 centesimi. Scende sotto il minuto 6 secondi e 5 centesimi che aveva fatto la settimana scorsa a Scanzano Ioni con un evento però di portata sicuramente minore e soprattutto infrange il record italiano precedente di una Martina Carraro che lo vede polverizzato due volte davanti a sé. Ovviamente il nuovo record è quello di Arianna, prima a toccare ma il tempo di Benny è il record italiano juniores. Il sette colli di Benedetta però prosegue, oggi alle 19.55 gareggerà nei 50 rana laddove ha scritto il record del mondo a Budapest nella sua vera specialità per quanto non sia disciplina olimpica. Ed è entry list anche domenica per fare 200 rana tanto per non farsi mancare niente. Dal sette colli la Pilato era emersa nel 2019, da qui parte la sua rincorsa per Tokyo e il tempo è incoraggiante, anzi molto incoraggiante.